Assegni di cura e voucher sono le forme tramite le quali è possibile concretizzare la misura in sostegno di anziani non autosufficienti e di persone con disabilità. Si tratta di una misura approvata dalla Giunta Bardi su proposta dell'Assessore alla Salute e Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico. Nello specifico, l'impiego della quota assegnata alla Regione Basilicata è pari a complessivi 8,6 milioni di euro. Dunque saranno così riconosciuti assegni di cura e voucher del valore variabile tra 300 e 500 euro erogabili per una durata di 12 mesi, prorogabili salvo la verifica di disponibilità finanziaria da parte dell'ambito socio-territoriale che ne costituisce il soggetto attuatore. Noi stiamo predisponendo un programma di più di 8 milioni di euro per sostenere i bisogni delle persone fragili a cominciare dagli anziani sia con un sostegno economico ma prevalentemente attraverso strumenti, istituzioni che daranno servizi diretti e indiretti alle persone che hanno queste problematiche e alle loro famiglie. Si porta avanti un progetto di rafforzamento delle politiche sociali con l'obiettivo di costruire una rete sempre più caratterizzata da politiche a sostegno del benessere delle persone e ovviamente partendo dai più fragili. Una risposta seria e concreta per i più fragili che vuole anche valorizzare la figura del caregiver. Si una risposta per chi è più fragile e costruire anche un mondo nuovo di professioni per la cura delle persone che è una prospettiva di lavoro anche interessante per i giovani.